Venerdì 16 c'è la decima giornata nazionale del cane guida per ciechi e l'Unione Italiana Ciechi ha voluto istituire questa giornata per sensibilizzare la popolazione riguardo all'importanza di questo ausilio, alla mobilità, ma che non è solo questo, ma è un formidabile compagno di vita per i non vedenti e in questo modo far presente tutti i problemi che ancora permangono sull'accessibilità del cane in varie situazioni e spesso troviamo incresciosi episodi che ci costringono a aumentare la comunicazione e la sensibilizzazione sulla presenza del cane guida.